benvenuti e bentornati qua nel canale molto probabilmente non arriverà mai in europa ma se per caso lo troveremo in vendita il costo del mini se pare che si aggiri intorno ai 299 dollari ovvero 246 euro una review del mavic mini con un controller forse forse di air 2 e di mini 2 in una confezione decisamente economica ma con caratteristiche purtroppo non del mini 2 ma ad un prezzo che sembra onestamente un discreto affare e ne parleremo ovviamente in questo mio video come al solito vi chiedo un bel like per me sarebbe davvero fantastico e per voi è solo e semplicemente un clic qua sotto poi che dirvi se non siete ancora iscritti spero che decidiate di iniziare a seguire il mio canale una foto che è stata pubblicata proprio ieri su twitter precisamente da un account chiamato g atamer e ci mostra il costo esatto il costo su uno scaffale di questo nuovo chiamiamolo si prodotto dgi ovvero il mini se che di 299 dollari che in pratica come vi ho detto sarebbero 246 euro e dunque beh forse che dire sarebbe per davvero un buon affare però alla fine vi farò una domanda e lo chiederò a voi adesso faccio delle considerazioni dgi si è inventata questa cosa per recuperare i mini che aveva in carico e venduti dopo l'uscita del mini 2 e per fare anche secondo me concorrenza sia ubsan che a fimi che sono da poco appunto sul mercato e ubsan ancora no fimi già con i loro piccoli 250 grammi e lo fa con un drone una cozzaglia di drone ad un prezzo appetibile perché che sembra dgi ha ancora vari mavic mini venduti è ovvio un drone che chiaramente ha nettamente diminuito le vendite dopo che è stato lanciato dalla stessa azienda il mini 2 a novembre prodotto ovviamente superiore e quindi loro cosa hanno fatto con un po d'accozzaglia tra mini 1 e mini 2 ecco un nuovo prodotto con un imballaggio molto diciamo economico però non si è ancora capito se nel bundle ci sia la radio quella del mini 2 o dell'air 2s o dell'air 2 e oppure la vecchia radio quella nera del mini certo che la camera come vi avevo già detto raccontato in un video precedente è quella a 2,7k non a 4k ma ovviamente purtroppo non ha connessione housing ma la classe connessione wifi del mini 1 e questo era immaginabile per le notizie che ho il drone sembra che non sarà mai introdotto in commercio in europa e ve l'avevo già detto nel video precedente ma è destinato al mercato asiatico e americano ma a questo punto sono io che vorrei capire da voi cosa ne pensate di questa situazione e cosa farete nel caso che venisse commercializzato anche qua da noi ovviamente in europa e anche altrettanto ovviamente se il prezzo fosse confermato a 246 euro secondo voi sarebbe un affare per chi vuole iniziare potrebbe essere un oggetto che potrebbe dar noia ai piccoletti fimi e ubsan che sta arrivando preferiresti prendervi un ubsan con a 400 euro o questo e molti magari spendendo solo 250 euro si prenderebbero questo ibero dgi e potrebbero iniziare a volare ad un prezzo decisamente abbordabile ditemi la vostra io sono molto curioso e ovviamente scrivetemelo qua sotto nei commenti mi si è anche spento il video qui e magari se andate nella mia community youtube nelle canale vi metterò anche un sondaggio e anche lì potrete votare e dirmi la vostra e il vostro pensiero bene allora aspetto decisamente di sapere quale sia la vostra idea nel caso che venga messo in commercio e costi appunto poco meno di 250 euro che cos'è questo un affare che ci fa fare dgi o un pacco sono curiosissimo e attendo decisamente un vostro pareri un abbraccio vi saluto spero che passiate un buon sabato ci vediamo dalla toscana alla prossima da vigrette ciao